Ragazzi ci siamo, GX in ogni pack, ma la cosa più importante di tutti ragazzi è che questo è l'ultimo box in assoluto, credo, che aprirò di ultra shiny GX ragazzi perché gli altri tu li devo lasciare per forza, uno per collezione e l'altro per rivenderlo fra qualche anno. Quindi adesso andiamo a vedere che questi qua sono quelli già stati aperti, ecco qua, one, two, three ragazzi, il pool di questi box se lo vedete nel canale basta andare a vedere gli altri video. Vabbè questi li mettiamo qui in disparte, da questa parte, perché stanno in disparte, quindi stanno da questa parte e andiamo a vedere cosa c'è all'interno di questo box senza perderci in cuance ragazzi perché se no perdiamo tempo, qui la giornata è un mozzico ragazzi e con la fame che ho mi mangio tante giornate perché la giornata è un mozzico quindi faccio tanti mozzichi perché ho fame, quando uno ha fame fa i mozzichi. Scusate quest'intro è un po' disabbiata ragazzi, non lo farò mai più, lo giuro, lo giuro. Allora, pellicola che buttiamo e andiamo subito a vedere cosa c'è all'interno di questo box ultra shiny, come sapete ogni pack contiene una GX, quindi spettacolo. Allora, questa espansione non finisce mai di sorprendermi ragazzi, ogni volta che penso dico ecco, cioè dopo di questa non può succedere nient'altro, ogni volta mi è sempre successa qualcosa di peggio. Quindi, vediamo se questo box confermerà le cose successe fino ad ora oppure sarà un box tranquillo, troverò le carte buone e niente da fare, c'è niente da fare, è tutto a posto. Andiamo a vedere, allora, il primo pack. Sento delle presenze fuori dalla finestra, non si sa chi è. Comunque, allora, primo pack e vediamo cosa troviamo. Allora, in questo box si possono trovare molte carte come per esempio Charizard, Rayquaza, Mewtwo, Tapulele Gold e molte altre carte che sono diciamo un po' le più costose, quelle che hanno un po' più valore. E io ovviamente non le troverò mai, quindi questa è l'ultima possibilità che ho di trovare ragazzi in questi dieci pack, anzi in questi nove più uno dieci, l'ultima possibilità in assoluto di trovare queste carte. Quindi speriamo almeno una sola, ne me ne basta una e sto contento. Trainers, perché ovviamente non è che tendo a finire questa espansione, è impossibile. Trainers, se stanno troppo e shiny. Poi abbiamo, attenzione, Dactrio, Etren, Ninetales, Dialola e Sboom, Naganadel, GX e per finire Sboom, cartana fragmentata. Primo pack, un Naganadel GX, quindi abbiamo trovato una GX, è andata bene. Anche perché troviamo sempre una GX, quindi va sempre bene. Yuki! E andiamo con il secondo pack ragazzi, questo secondo pack spero mi dia una bella GX che mi manchi, o che mi manca, o che mi mancherà, o che mi mancava, non lo so, decidete voi. Fatemelo sapere nei commenti. Trainers, Trainers, Sea Viper. Oh mio Dio, ho visto qualcosa di spettacolare, o forse è solo la mia mano che riflette lì e quindi sembra pancione di molto bello. Rockraff, Eevee, G-Ball o G-Ball o come volete. Dawn Wings, odio sempre Dawn Wings, Dustman, Necrozma, Cliniera del Vespro. Garchomp, Olografica e, attenzione, Golisopod GX e Fennekin. Golisopod GX, è la carta GX più pullata in questa espansione ragazzi, la trovo una volta su due, quindi trovo sempre questo, anzi una volta su uno. No, quanti ce l'ho? Non me ricordo. Vabbè comunque non mi interessa, ma che a me sinceramente è un Golisopod, è meglio non trovarlo. Ah, mi sono fatto male al gommito, trick a tre. E andiamo con questo terzo pack ragazzi, qui mi sento che c'è qualcosa di buono. Abbiamo Trainers, Mimikyu, Combat Scan, Incai, Swablu. Attenzione, spettacolare, Metacross GX Shiny, questo mi piace ragazzi, questo è spettacolare. 234 di 150 SSR, questo è spettacolare, vabbè oggi l'ho detto spettacolare, però ragazzi, mamma mia, che spettacolo. Metacross Shiny e tanta roba. Metacross Shiny mi piace, sono proprio soddisfatto, spettacolare. Poi abbiamo Xurkitree, Octopus Riserface e Trainers Reverse. Vabbè, non ci interessa un cacchio di sto schifo dei Reverse, dei All-Ul, leviamo sto schifo perché abbiamo qui Metacross GX Shiny, da slivare subito. Su Instagram ragazzi, seguitemi subito così almeno non vi scordate, oppure appuntatevelo. Oppure leggetelo sotto alla fine del video, in descrizione. Leonardo, barra sotto G, barra sotto C, ragazzi, metterò una foto spettacolare di Metacross GX a carta, vicino a Metacross, Metacross Shiny, su Pokémon Go, fortunato ragazzi, spettacolare, pure maxato, quindi mi raccomando eh. Guardate che spettacolo Metacross Shiny, tanta roba. Un like per questo Metacross, vabbè basta, mi sto divulgando troppo, però sto contento, finalmente un pool spettacolare. Andiamo a vedere cosa c'è all'interno di questo pack. Allora, trick a tre, e andiamo con, sembrava diverso, no, trick a tre. Oh, me lo sentivo lì che trovo qualcosa di buono, l'ho trovato, spettacolo, quindi abbiamo Trainers, penso che non avevo messo a registrare. Rotom, Trainers, Fennekin, Energy, Snoover, attenzione, Trainers, full art, spettacolare. Mi sono cascato di tutte le carte, dalle mani, ma che fai, non so capace neanche a sfogliare le carte. Trainers, full art, quindi questo box super spettacolare, ho trovato sia la Ultra Shiny che la full art, spettacolare. 154 di 150, ragazzi l'artwork è affatto bene, mi piace, poi c'è sta pokeball del amo, tanta roba, da qui non si vede. Ecco, così si vede il amo, guardate che spettacolo. Poi abbiamo, attenzione, Oranguru, Reshiram, Olografico e Necrozma GX. Not bad, not bad, ragazzi, not bad. Quindi, manteniamo la calma, mettiamo subito la full art in the sleeve, o on the sleeve, fate voi, tanto le proposizioni, le proposizioni, c'è frega un caldo, nessuno. Mettiamo qua, poi prendiamo questo, mettiamo qua e mettiamo subito l'on the sleeve anche Necrozma, perché Necrozma è Necrozma, ragazzi, non dimentichiamolo. Comunque, il computer nel frattempo sta facendo un super macello, perché quello nuovo ancora non è arrivato, non so mai se arriverà, comunque va bene. Andiamo a vedere questo quinto pack, ragazzi, guardate che spettacolo sta, sto box, mi piace proprio troppo. Adesso io sto troppo in, come si dice, troppo carico, mi viene subito voglia di aprire un'altra box, ma non posso, perché lo devo lasciare da parte. Come faccio? Devo resistere, devo resistere, perché poi lo apro e trovo una doppiona, so sicuro, so sicuro che trovo la Ultra Shiny doppiona. Un'altra Ultra Shiny doppiona. Trainers, Rotom, Trainers, Ralts, Pacirisu, Zorua, Zygarde, BNC, Lycanrock, GX e, attenzione, Rygow, Fragmentato, ragazzi, non l'avevo mai trovato, quindi ci può stare. Lycanrock e GX, invece, però è meglio se non ci stava, ci stava un'altra che mi mancava, però, sinceramente, non so se mi manca qualche GX o se già l'ho trovata tutte, boh, perché ancora non l'ho messa nell'album, ragazzi, non c'ho avuto tempo. Sì, io so che è passato tantissimo da quando ho aperto il primo box, però ancora non ho avuto tempo di metterle nell'album. E andiamo con il pack number 6. Ogni volta che faccio così mi faccio mano al gommito, perché lo faccio, non lo so, non lo so. Trainers, attenzione, ho visto già una holo molto male. Album Asnow, Trainers, Magremite, non ho trovato ancora nessuna Shiny normale. Poiple, Marshadow, Manafi, attenzione, Zulkytree, GX e per finire Trainers. Voglio trovare una Shiny. Allora, ragazzi, sono rimasti 5 pack, ragazzi, o 4? 4 pack. In questi 4 pack dobbiamo riuscire a trovare almeno 2 Shiny, ragazzi, voglio trovare almeno 2 Shiny. Speriamo bene, speriamo bene. Prick a 3 e andiamo con, attenzione, Trainers, Exeggidor, Trainers, Bulbasaur, Pacirisu, Energy, Zygarde, Downwings, Necrozma, Downwings, Necrozma, GX, ragazzi, spettacolare. E per finire, sempre lui, lo trovo ad ogni pack. E lo mettiamo qua, subito nella sleeve, no, non ce lo metto nella sleeve, non ce la voglio, lo mettiamo qua dietro, Marco, si vedrà, poverello, mi dispiace molto, però non c'ho spazio, non c'ho spazio. Ah, si regge? Spettacolo. Trick, pack numero terzo ultimo, numero terzo ultimo. E vediamo cosa, guardate qui, ho aperto il pacchetto lasciando una striscetta. Spettacolo, ragazzi, questo è un trick difficilissimo da fare, se riuscite a farlo, taggatemi nel vostro video, nella vostra foto, e vediamo. Vediamo, vediamo tutto, Trainers, Rotom, Trainers, tre pacchetti, non ho trovato nessuno a Shani, ragazzi, molto male. Riolu, Vulpix e Dialola, Type Nullas, Buzzwall, Silvalli, GX e Dactrio. Fragmentato, ragazzi, non ho trovato nessuno a Shani, sono rimasti solo due pacche. Molto malissimo. Cioè, andava benissimo con l'Ultra Shani spettacolare, più la full art, però, io le ho trovato una Shani, ragazzi, penultimo pacche qua. Lo sai perché? Non avete messo like. Metti like, dammi retta, mettilo un attimo, un attimo solo. Metti like, hai messo, guarda adesso, ora ti lascio vedere, infatti abbiamo uno spettacolo, spettacolo, che funziona, poi lo dovrai mettere sempre, lo so perché, cosa che vuoi fare? Trick a tre e andiamo con, attenzione, questo computer che adesso lo brucio, lo distruggo, poi abbiamo Trainers, Kartana, Trainers, Diglett, Slugma, sì, Zorua Shani, ragazzi, al penultimo pacche, spettacolare. Mi mancava pure, quindi, spettacolo, guardate. Spettacolo. Zorua, Shani, poi abbiamo, attenzione, Energia Prisma, che forse mi mancava, non mi ricordo. Poi abbiamo, attenzione, la GX, Tapulele GX, che è molto buona come GX, ragazzi, perché Tapulele è Tapulele. Ricordiamocelo sempre. La Prisma la lasciamo qua, non mi frega un cacchio. Però, subito, Zorua, Shani, prima Shani di questo box, al penultimo pacche, ragazzi, si, pelo pelo, l'abbiamo trovata. Mettiamola qua davanti alle GX, non ci frega nulla. E poi prendiamo Tapulele GX, sempre nella sleeve, ragazzi, perché Tapulele è Tapulele, cioè, non è che possiamo discutere del Tapulele, cioè, è Tapulele. Ultimo pacche, ragazzi. Non so se, avendo trovato la Hyper, la Ultra Hyper e la Full Art, ci sia la possibilità di trovare anche la Gold. Però, ultimo pack, ragazzi, se trovassi la Gold, sarebbe il box perfetto GX in ogni pack, e più Ultra Shiny, Full Art e Gold. Cioè, sarebbe un box proprio assurdo, però sicuramente non succederà mai. Ma se succede, ragazzi, questo video deve essere proprio condiviso anche con quelli del Giappone, vai là del Giappone, dicendo, guardate cosa ho trovato, capito? Vabbè. Il Metacross Shiny mi ha dato la testa, scusate, non lo farò mai più. Trick a tre. E andiamo con... Allora, comunque, va dalla cosa, ragazzi, l'importante è divertirsi, l'importante è partecipare, l'importante è trovare le Shiny. Trainer Sudhudo, Marovac Delola, Cosmog, Ivisaur, Hetmor, Lucario, Blashingen, Glacium GX, per finire, Trainer Fragmentata, vabbè. Glacium GX, è uguale, è uguale. Non ci interessa, lo mettiamo qua dietro, poi manco lo voglio vedere, questo scherzo, ragazzi. Glacium è Glacium, però, questo pull mi è piaciuto parecchio, perché abbiamo trovato Full Art, Ultra Full Art, questo qui, quando c'hai la gola un po', capito? E ti metti il Full Art, diciamo, Full Art, Zorua Shiny, eccolo qui, e Metacross Shiny, ultra super spettacolare, GX, guardate che roba, spettacolo. Questo qua quasi quasi lo metto come immagine di copertina del video perché è davvero spettacolare. Comunque, sto a finirvi la memoria, non mi devo sbrigare, quindi, spero che video si è piaciuto, ricordatevi di seguirmi su Instagram, vi faccio della foto di Metacross e altre cose, quindi, like, subito la becce, è tutto quello che volete. E al prossimo spacchettamento, tanto ce ne sta uno, ogni, sempre. E al prossimo spacchettamento, tanto ce ne sta uno, ogni, sempre. E al prossimo spacchettamento, tanto ce ne sta uno, ogni, sempre.